Sì, guarda, tu butta fuori e dici che non posso entrare perché a quanto pare di tutto è già entrato che ovviamente non è possibile perché sono qua fuori con te, giusto? Figa, zio. Serata pazzesca. Ma che ci fai ancora fuori? Non sei adatto per questo locale. Rientriamo? Rientriamo?